E' una volta al mese arriviamo con soggetti diversi, infatti prima dello spottacolo sentivo i bambini che c'erano, quando riesce la mente. Questa è una lettura diversa, abbiamo voluto fare una lettura diversa per cercare di giocare con dei personaggi che i bambini possano giocare con la loro fantasia, perché se no ci chiudiamo sempre ai personaggi fondamentali e gli altri non li ignoriamo un po'. Era un divertimento, un modo divertente. Ringrazio Anna Maria Tomara per aiutare energia e musiche e luci, grazie mille. Non scherzavo, la quota non scherzava quando diceva che c'era il fresco, c'è veramente lo sapete che è perfetto, è tutto collegato. L'appuntamento prossimo, io non mi ricordo la risata Dario se la ricorda, 13 febbraio, no, 14 febbraio, 15, 19, 21, lo spettacolo è basilico e parlerò di Cristoforo Golombo. Grazie, buona giornata. Grazie.